A lavoro questa mattina tecnici dell'Enel di convergenza SPA per l'installazione del sistema di videosorveglianza presso il parco fluviale del Testene. L'impianto di videosorveglianza fungerà da deterrente per i malintenzionati, oltre ad avere il compito di monitorare il corso d'acqua del fiume, le piene e le specie animali. Nello scorso mese di agosto 15 germani reali presenti nel fiume furono portati via dai gnoti. L'area interessata avrà a disposizione anche una rete wifi per l'accesso ad internet. Tra circa un mese il sistema operativo dovrebbe essere pronto. Il progetto Genesi, lanciato dal cittadino Gerardo Scotti e sostenuto dal comune di Agropoli, continua a crescere. È stata scoperta nei giorni scorsi la presenza molto importante di una famiglia di Londres, animale protetto e simbolo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e diverse specie di uccelli. Fa sapere Gerardo che quotidianamente si reca più volte al giorno sul posto per controllare i piccoli pennuti e ripulire l'aria da eventuali rifiuti. L'aria protetta Testene, sotto la tutela del nucleo intervento, tutela ambientale, dell'Omin, si sta piano piano ripopolando grazie ai vari rilasci di specie animali come papere, anatre e germani reali, pesci che precedentemente erano presenti nel fiume e si sono estinti. E lo scopo delle telecamere di videosorveglianza sarà anche quello di monitorare queste specie selvatiche. Per chiunque volesse sostenere l'iniziativa di Gerardo e contribuire alla riqualificazione del Parco Fluviale Testene o semplicemente contribuire all'acquisto di mangime per le anatre, può farlo con delle donazioni libere rivolgendosi al numero 331-7305-767. Presso il Parco Fluviale del Testene, ricordiamo che è vietata qualsiasi tipo di pesca o caccia, non si può catturare nessun animale o insetto presente neanche una libellula. Inoltre il fiume è un bene di tutti ed è dovere di ogni cittadino preservarlo, difenderlo e custodirlo perché esso è una risorsa unica.